Allora, siamo qui a Linux Day a Magione, nella sede del Lug di Perugia e siamo qui con Francesco che ci vuole illustrare questa lavagna interattiva multimediale realizzata con... Prego Francesco. Allora, questa è una distribuzione Linux che comprende tutti i software necessari per la realizzazione di questa lavagna. È molto semplice, si collega e funziona con il Remote Control della Wii e contiene un sacco di... oltre a un'interfaccia speciale per l'utilizzo con il pennarello, contiene una serie di applicazioni che servono sia per il lavoro, quindi abbiamo suite office, editor PDF, calendario, eccetera, eccetera, sia applicazioni didattiche, in questo caso di scienza, sia giochi specifici per i bambini e per le classi di età della scuola primaria, in particolare. Questo è un piccolo esempio per imparare la fisica. Oltre a questo abbiamo anche suite con programmi educativi, come Giacompi, che contengono una serie, appunto, di giochi didattici per insegnare dalla matematica all'alfabeto alle scienze. Questa è una simulazione di un circuito elettrico, a quanto vedo. Esattamente. Prendiamo la pila. Prendiamo la nostra lampadina. Colleghiamo tutto. E accendiamo la lampadina. Grazie Francesco.